grazie a tutti ciao buongiorno a tutti ce l'abbiamo fatta entrare è stata dura questa mattina no dico ho fatto la coda anch'io quindi è stata dura è stata dura per tutti ma evidentemente un evento del genere diventa importante e diventa importante riuscire a confrontarsi e a stare insieme ed è importante quello che è il tema di quest'anno del forum delle risorse umane human economy sono stato qualche settimana fa un grande evento dedicato ai chari tecnologia ad amsterdam ho sentito 29 volte in un giorno e mezzo we can change the world e devo dire che non ci ho creduto nessuna di quelle 29 volte e lo dico da uno che non viene dal mondo delle risorse umane io oggi ho fondato e dirigo tutta la parte di education italia in garden ma da pochi mesi sono anche lo dico in una maniera orrenda il capo delle risorse umane di talent garden quando abbiamo deciso che io prendessi questo ruolo abbiamo definito due parole people and culture abbiamo detto utilizzeremo solo e soltanto queste due parole e non sono solo due buzzword che iniziamo a utilizzare nelle aziende quando iniziamo a parlare di human economy sono due parole che o diventano e vanno davvero al centro di quello che un tempo chiamavamo funzione di char oppure decretano la morte della funzione di char perché l'anno scorso da questo palco ho detto altrimenti le char non serve più a niente quest'anno facendone in qualche modo parte posso dire altrimenti non serviamo più a niente perché all'interno del business con la crescita e la capacità di leadership di cui guida poi il business la funzione di char o è una funzione che supporta e che sviluppa davvero le persone che sviluppa una cultura aziendale che poi mette in grado le persone di lavorare in maniera diversa oppure diventa una funzione marginale in un taglio di costi e in intelligenze artificiali sempre più veloci diventa qualcosa di residuale ecco dato che però invece io credo che sia un punto centrale e che ci sono persone che possono aiutare altre persone a far funzionare il business a far funzionare meglio le aziende e provo a discuterne questa mattina con un po di ospiti che adesso invito su questo palco per cercare di capire se il futuro è davvero nella human economy e allora richiamo qua per primo colui che appena stato su questo palco daniele aggiman maestro direttore d'orchestra ancora esatto partiamo dal fondo insieme a daniele chiamo l'executive vice presidente human resources organization di snam paola borromei applauso uno dopo l'altro ciao paola buongiorno non riesco a darti la mano per una una questione non ho la non ho un'intelligenza artificiale che mi mostra in questo momento davanti a me quello che sta scritto sul mio ipad è una ex ma forse non si diventa mai ex pallavolista è stato capitano della nazionale femminile maurizia cacciatori ciao buongiorno maurizia dico bene che non si diventa mai ex pallavolista cioè lo si rimane lo si rimane assolutamente segno vice president human resources organization di ansaldo energia andrea del chicca eccoci ciao buongiorno andrea accomodati e poi andiamo avanti in nel chiamare un po di persone qua sul palco group chief human resources officer di ferrovie dello stato italiane mauro ghilardi ciao buongiorno anche a te mauro benvenuto grazie di essere con noi e char director italy di microsoft pino mercuri vediamo dove pino eccoti saliamo dall'altra parte e infine non è nulla a che fare con le char ma forse ha più che fa ha più a che fare con le char di tutti capo spedizione alpinista e autore daniele nardi ciao daniele benvenuto